Ciao, allora oggi vi voglio presentare Genesis. Chi è Genesis? Genesis è una fantastica collezione di immagini stampate su una carta meravigliosa e rilegate completamente a mano da un'azienda artigiana. Perché faccio questo? Ho riflettuto su cosa effettivamente è importante che le persone abbiano all'interno della loro casa. Deve essere un oggetto che quando ci passano davanti sentono un affiatamento emotivo, un'appartenenza. Devono essere oggetti che arredano la casa, devono essere oggetti con cui io sto bene insieme. Pertanto è per questo che vi consiglio Genesis. Io l'ho scelto e voluto con 20 immagini e ve lo consiglio con poche immagini perché così avrete sempre la voglia di rivederlo. Questo è Genesis, può essere in dimensioni diverse, può essere con copertine diverse. Quello non è un problema ma è il contenuto emotivo e spirituale che c'è dentro, che è importante. Grazie e per qualsiasi informazione resto a completa disposizione.